Da decenni viviamo in un'atmosfera di emergenza globale, sovrappopolazione, pandemia, ambiente, clima, una propaganda martellante e continua, un'informazione megafora del potere, hanno creato un clima di paura e di sfiducia nel futuro che oggi è così evidente. Da dieci anni invece la nuova bussola quotidiana propone una informazione controcorrente fondata sulla fede cattolica documentando le finalità politiche e ideologiche di certe presunte emergenze. Per tutto questo la nuova bussola quotidiana è da dieci anni un vero antitodo al potere, ma per continuare nella nostra missione abbiamo bisogno del sostegno economico di tutti voi lettori. Siete voi che fate una donazione, piccolo o grande che sia non importa, siete voi che permettete che esista questa voce libera e cattolica. Noi non abbiamo sovvenzioni da istituzioni pubbliche, civili o ecclesiastiche che siano l'unica fonte di sostegno, l'unica forza siete voi lettori. Perciò ti chiediamo di aderire a questa campagna raccolta fondi natalizia. Dona ora. Grazie. Grazie.